Nasce CiacScienza e si gira verso un mondo green, il canale web di divulgazione scientifica ideato da Vincenza Faraco, docente di chimica e biotecnologia delle fermentazioni presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. Del canale web sono state illustrate l'ambientazione, i temi principali, gli oggetti simbolo dell'iniziativa ed è stato descritto come si accompagnerà il pubblico alla scoperta di notizie importanti per l'ambiente e la sovravvivenza del nostro pianeta. Per ogni Ciac un concetto e un messaggio da portare a casa in modo da tenere sempre a portata di mano le notizie utili sull'ambiente. Si affronteranno anche argomenti più pratici, ad esempio come va fatta la raccolta differenziata, per aiutare i consumatori a imparare a conservare le buone abitudini. Vincenza Faraco poi spiega. L'iniziativa è rivolta a tutti, a tutte le persone, al grande pubblico e quindi anche agli studenti. Si daranno delle notizie riguardanti appunto i problemi ambientali, le soluzioni che si possono realizzare con le tecnologie offerte dalle scienze, la chimica verde, l'economia circolare, la bioeconomia che vi ho citato e la cosa fondamentale è che si forniranno con un linguaggio semplice che consenta anche a non addetti ai lavori di essere raggiunti dal messaggio.